Bram si attendeva da molto il tuo rientro, è stata oggi una partita molto difensiva quindi che ha coinvolto particolarmente il tuo settore e tu hai dato un contributo di solidità e di sicurezza alla retroguardia bianconera. Sì, io penso che dobbiamo giocare sempre così. Sicuramente è una partita difficile per noi perché giochiamo contro una squadra fortissima, ma va bene, abbiamo fatto bene oggi, siamo compatti, abbiamo giocato insieme e questo è molto importante. Anche lo scorso anno, ho visto le ultime 12 partite, abbiamo fatto una bella cosa perché abbiamo giocato insieme e dobbiamo giocare sempre così e oggi abbiamo fatto e questo è un bel punto per noi. E con una squadra che veniva da un ottimo periodo di forma come il Sassuolo ed era anche il miglior attacco, è tuttora il miglior attacco del campionato avete ottenuto il vostro primo clean sheet, la prima partita senza subire gol. Anche questo aiuta a pensare che si può essere sulla strada giusta una squadra, la vostra, che può non concedere anche a formazioni che stanno bene, a formazioni che stanno in alta classifica. Sì, sì, sì. Ho detto prima che loro sono fortissimi e gli attaccanti di loro sono forti, ma come oggi abbiamo fatto una bella partita così, tutti insieme. Io penso che loro non hanno preso molta occasione, quindi abbiamo fatto una bella cosa e ho detto prima che dobbiamo sempre giocare così, perché così possiamo vincere le partite e dobbiamo giocare con zero dietro e dopo vediamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.